Le priorità sono state definite con chiarezza durante la campagna, noi abbiamo da un lato un compito generale che è lo storico compito del PPE, quindi di Forza Italia, cioè quello di dare compimento al progetto europeo attraverso la definizione di una, è una brutta parola, però un'architettura istituzionale più affidabile, cioè dove si capisca meglio qual è il compito dell'Unione Europea nel rapporto con i Paesi membri, quindi che non sia un'istituzione che prevari, che invade la competenza dei Paesi membri, ma che sussidiariamente interviene per dare quella forza che autonomamente i Paesi non hanno, ad esempio nella garanzia di una politica estera che sia anche politica di difesa comune, quindi capace di garantire la pace, come è accaduto fino ad ora, ma in maniera sempre più forte, visto le minacce che vediamo, e dall'altro un presidio economico sullo scacchiere internazionale in modo tale che la singola economia di un Paese, anche forte economicamente come l'Italia, non sia abbandonata a se stessa, su questo molto spesso l'Europa è stata più portatrice di vincoli che di supporto allo sviluppo dei singoli Paesi, soprattutto di quelli con una manifattura brillante ed esportabile come quella italiana. Troppo spesso abbiamo visto invece la minaccia della concorrenza sleale di chi non rispetta le regole di mercato, come può accadere per la Cina o altri Paesi con i quali collaboriamo, ma dai quali si distingue molto in ambito economico. Queste sono le nostre priorità. E queste sono anche le priorità politiche del Partito Popolare Europeo, cioè una forza politica che fa della responsabilità e della determinazione la propria cifra nella presenza delle istituzioni europee, quindi una presenza che da un lato riconosce e riconosce quanto manca al completamento del progetto, però dall'altro lavora proprio sull'idea che si parte da quello che c'è, non da quello che manca, per dare risposta concreta alla domanda dei cittadini. I cittadini vogliono lavoro, vogliono pace, vogliono un'Europa sostenibile ma anche competitiva, cioè presente sui mercati, non un'Europa che da essere un continente produttore diventi un continente consumatore di ciò che viene prodotto altrove. E' questa l'idea concreta che noi tentiamo di difendere, rivedendo anche un Green Deal che nella fase finale della precedente legislatura ha mostrato la propria degenerazione più ideologica nella quale noi non ci riconosciamo e sulla quale lavoreremo intensamente. E questo è anche uno dei modi attraverso i quali il governo italiano sta chiedendo competenze forti per il commissario italiano, un commissario che dovrà avere competenze che siano in grado di tenere alto il nome del nostro Paese, soprattutto in ambito economico. Quindi ci sono portafogli che sono particolarmente pertinenti con la vocazione del nostro Paese in ambito economico e non solo, perché poi sono dinamiche economiche che diventano anche dinamiche molto stringenti dal punto di vista politico. L'industria, l'agricoltura, la concorrenza, sono tutti portafogli che separati o aggregati sono in grado da un lato di definire un nuovo modo di concepire la sostenibilità non ideologico, non anti-industriale come a volte accaduto in passato e dall'altro per dare protagonismo politico a un commissario italiano che non solo dovrà avere un portafoglio forte ma dovrà avere anche un ruolo come vicepresidente di presidio del futuro presidente affinché non accadano certe stranezze che hanno messo troppo peso sulla politica di centro-sinistra in passato e che consentano quindi in futuro di avere un centro forte ma che guarda al centro-destra come baricentro un modello italiano portato in Europa. Ci sono appunto, come dicevo, i pacchetti più rilevanti quello industriale, quello agricolo, quello della concorrenza abbiamo diversi portafogli, quelli economici in generale che rispecchiano la natura, la solidità del tessuto sociale ed economico italiano questi sono i punti su cui lavorare aggregando i portafogli oppure anche tenendoli in parte distinti ma quello è l'ambito nel quale collocare la futura presenza del governo italiano nella Commissione Europea.